Ciao Rame, innanzitutto come stai? Bene, bene, grazie a te Eh, tutto a posto, diciamo, fa freddo Senti, partiamo subito dal tuo brano Mi ha colpito moltissimo Grazie E lo trovo anche molto originale, proprio a livello di sound Se mi racconti un po' com'è nato E come hai deciso di presentare questo brano a Sanremo Perché poi è un po' una carta d'identità con cui ti presenti, no? Volentieri Allora, è nato, è la musica di Giulio Lenna Che saluto È nato da un incrocio di più mondi Mi piace pensarla così Da una parte nelle strofe si divide in questi due Strofe molto rap Con molto crude, molto spoglie, molto vere Che si bilanciano un pochettino con un pizzico di cantautore Magari con quella ricerca, magari, nella metafora I ritornelli molto pop, invece Molto musicali, che aprono molto Che richiamano più un suono italiano Ma non italiano, nel senso Io amo la musica italiana Però, allo stesso tempo, non italiano nel senso vecchio Assolutamente, italiano nel senso Tenendo le tradizioni italiane Però cercando di portarlo un attimino magari moderno Con suoni freschi Però mi piace immaginarlo un po' come un ibrido In crocio di questi tre mondi E invece il testo, appunto Il testo l'ho scritto È un momento un po' difficile Molto permeativo Sì, è un testo dove ho cercato di raccontare una mia verità Dove mi sono messo nudo Poi io sono dell'idea Che le canzoni non vanno neanche troppo spiegate Mi piace pensarla così Che le canzoni vadano interpretate dalle persone Per esempio io quando ascolto una canzone Vengo condizionato tantissimo dal mio stato d'animo Vengo condizionato da quello che penso Quello che provo in quel momento Quindi non mi piace dirti cos'è il testo Mi piacerebbe molto di più che la persona Parlate di persona Che lo interpretasse la persona E lo facesse proprio comunque Allora, questo è giusto Quindi ti chiedo come mai appunto Questo brano Perché tu comunque scrivi Quindi immagino hai un repertorio di brani Appunto così E come mai hai scelto questo pezzo Per il palco dell'Ariston Penso che ti rappresenti Sicuramente mi rappresenta Sicuramente è un buon biglietto da visita No, il mire è brutto Sminuito un pezzo No, assolutamente Penso che mi rappresenti molto questo pezzo Dove si trovano dentro dei lati felici Dei lati negativi E comunque lati anche personali Ma non solo E ho scelto questo pezzo Perché Secondo me abbiamo pensato Che sarebbe stato bene A Sanremo Un pezzo del genere Suonato anche dall'orchestra Non vedo l'ore È fantastico È davvero un'emozione incredibile È un onore soprattutto Poter suonare con musicisti Quello spessore E no, no Dai, poi è da sentire Ci vedremo là E lo sentirete là E mi direte voi Senti, cosa ne pensi Della serata Direi uno Innanzitutto Se ti aspettavi Che andassi a finire così Insomma Che tu passassi Se avevi delle aspettative Come l'hai vissuta E cosa ne pensi Comunque È un'importante vetrina Diciamo che è stata data Alle nuove proposte Per farsi sentire un po' meglio Per far andare le canzoni in radio Quindi forse È un po' una cosa Sì Allora Che sarei un'ipocrita Direi che non aspettavo Perché chiaramente Sono quelle cose Che non ti puoi aspettare Dall'altra parte Ci credo molto In quello che faccio Ci ho sempre creduto E continuerò a crederci Con i piedi a terra Lavorando Quindi non ti dico neanche Che non volevo che succedesse Quindi ho fatto tutto Per farlo accadere Poi accaduto Poteva accadere Come Come poteva non accadere Dall'altra parte Sì Sicuramente parte di un sogno Anche Sanremo Però appunto è parte di un sogno Spero che sia un inizio Di un percorso artistico Ripeto Sono onoratissimo Di stare su quel palco Sarà un'emozione incredibile Però Spero che sia un inizio Di un percorso artistico Ecco Una domanda che la voglio fare Cioè Sicuramente c'è un progetto discografico In ballo Sì Abbiamo finito Stiamo chiedendo i master E Non vedo l'ora di farvi sentire Si bilancerà molto su questi tre mondi E sarà il mio disco Quindi Chiaramente è un po' come se fosse poi tuo figlio Disco Non puoi ti parlarne bene Un po' Beh un po' Sì come un figlio Di tanto devi tirare le orecchie Aveva l'hanno tirato fin troppo da piccolo Perché È stata dura farlo Però Dura più che Che farlo È stata dura Provare quelle emozioni Mentre lo scrivevo Questo mi è Tra virgolette pesato Ma è stato un peso giusto Giustificato da Dalla realizzazione di quel disco Che non vedo l'ora di farvi sentire Senti Ti riconosci un po' nella definizione di rapper Perché forse Però Non ti vedo molto così effettivamente No Non mi riconosco Io amo il rap Amo il rap italiano E Rispetto molto I rapper italiani Sono fortissimi Ma no Non mi riconosco assolutamente Nella Come rapper Assolutamente Io poi sono molto lontano dall'hip hop Per esempio Spesso mi è capitato che mi dicessero Mi skill hip hop Ma non è assolutamente hip hop Mi piace molto di hip hop Lo ascolto Ma non è hip hop Quello che faccio è rap Che è comunque una radice Ma non è la stessa cosa Hip hop prevede anche basi diversi Loop Una cosa diversa Invece no Non mi riconosco No Non mi riconosco come rapper Assolutamente Senti invece Sempre a proposito di Sanremo Cosa ne pensi Dei duelli Perché sai che sarete Uno contro l'altro Sono duri Capire la tigre Eh sì Vabbè Sì è così Dai si fa Si fa Sperai Sarà dura Sì certo Sarà dura Sarà stressantissima Cioè Sarà una cosa Pesantissima Però si fa Ma è Certo Si fa Dei tuoi compagni di viaggio Che ne pensi Che intendi Gli altri nuove proposte Gli altri nuove proposte Ne penso Sono bravi artisti Sono tutti bravissimi artisti Sono comunque arrivati tutti lì Comunque non voglio dire Che sono un bravo artiste No Non fatti No Sono bravissimi artisti L'ho conosciuti Sono bravi persone davvero Cioè non lo dico per Sono brave persone Poi Cioè Mentirei Di dire che siamo tutti Migliori amici Cioè Non è che ci chiamiamo tutti i giorni Non è assolutamente vero Però Auguro meglio sicuramente a tutti Perché È giusto Chissà così Sono persone che si impegnano nella musica Come cerco di impegnarmi io E si meritano sicuramente il meglio Grazie mille A presto Grazie a te